Buongiorno carissimi, stamattina sono in solitaria, non c'è Omero, non c'è Gino, non c'è Savuccio, non c'è nessuno. Oggi tutto solo, vediamo se sono fortunato. Intanto voglio ringraziarvi che siamo arrivati un poco più ai 700 persone iscritte al mio canale e questo ringrazio a tutti i 700, grazie di cuore. Io stamattina sto uscendo, ripeto sono in solitaria, non c'è Omero, non c'è Gino, non c'è nessuno e vediamo cosa trovo. Se sono fortunato, vediamo un posto nuovo, allora comincio a girare, il GPS ce l'ho con me e vediamo cosa nasce stamattina. Grazie ancora a tutti di cuore e ci vediamo dopo, più e tardi, come faccio il primo ritrovamento. Dai, a dopo. Allora ragazzi, il primo l'ho trovato, è solo, in solitaria, non fa niente. bello. Anche che è solo, ma è bello. Bellissimo. Allora lo pulisco e lo metto nel cestino e continuiamo. al cinello secondo di oggi, ma non è un granché. Lascia stare un po' pieno l'acqua. Vediamo, vediamo che nasce. ragazzi, io mi sposto perché qua, niente, solo un funghetto ho trovato. Ora cambio zona, comincia a fare pure caldo. Oggi c'è una bella giornata e vediamo cosa succede. Io sono trovato in macchina. dai. Aspettate che qualche bel funghetto lo troviamo oggi. Allora io sono arrivato qua, che mi sono spostato. Sono entrato adesso. Ora vediamo se siamo fortunati oggi. Oggi, vi ripeto, sono in solitaria. Non c'è mera, non c'è nessuno, non c'è solo due. Uno. Uno. Uno era pieno l'acqua e l'ho lasciata. Dai, qualche bel funghetto lo troviamo. Speriamo. Vediamo cosa c'è. È bianco. No, no, no. Una manita. Va bene. Come si vede bene. Allora io continuo e ci vediamo dopo. Finalmente comincio a trovare qualcosa. cestino là. Ho trovato il primo fungo, funghetto. Ho fatto un giro. Faccio sempre un bel giro per guardare. e c'è pure questo. Cogu. Non è giovane, però è buono. Va bene. Ora vado a prendere l'altro e poi comincio a salire. Vediamo. Non siamo fortunati. qua c'è il nostro orcinello. Certo, poverino. È miso, romiso. Il gambo è stretto e lungo, però è buono. Continua. Prima in mente un funghetto. Bello. Già questo vi posso dedicare a voi. Tutti sono i vostri dedicati. Funchi. Questo è il più bello. Qualcos'altro c'è? No. bellissimo. Continuiamo. Ah, ci sono salito da qua. E qua è quello che mi aspettavo. Vediamo se si vede da qua. Anzi, vedi. Ci porto io. ho visto la lontana da dove ero messo. un poccinello. Un poccinello. Certo. Non sono giovane, però sono buone. un poccinello. 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 Peccato, non c'è qualcun altro, un cincinello, vediamo come questo già sembra meglio, già è buono, oggi tutti con il gambo stretto e lungo, vediamo, sta entrando adesso qua, bosco stretto, vediamo cosa usciamo fuori, stamattina peccato, tanti pieni d'acqua, la settimana scorsa erano buoni, peccato, c'era anche il cuginetto e solo come me, e là, questo sembra buono, no, è pieno di, bello duro, questo è buono, questo è buono, ho mangiato di sopra, però è buono, ce n'è ancora qualcun altro, va bene, va bene, no, amici, la mia passeggiata è finita qua, funghi, pochi, io sono arrivato quasi in macchina, mancano 50 metri, e mi concedo con queste due belle mazze di tamburo, io vi saluto, vi ringrazio ancora tutti, di cuore, per i 700 iscritti, e ci sentiamo alla prossima uscita, ciao amici, ah, se vi è piaciuto il video mettete un like, se non vi è piaciuto ne mettete due, va bene, ciao alla prossima